Passiamo un attimo le luci, per favore. Vai, musica! No, questo non è bene! Una soluzione, questo è uno! Strip Tees! Passiamo un attimo! Passiamo! Passiamo! Passiamo un attimo! Passiamo un attimo! Stop! 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 Mary Lou della Fansa! Andate, esce da questo corpo. Mary Lou della Fansa, applausi Massimo Flessi! Vincenzo, Vincenzo è finita, Vincenzo è finita. E allora, musica maestro! Do you want to fight with me? Do you want to fight with me? Do you want to fight with me? Allora, grazie maestro, signore e signore, adesso sarete voi a scegliere chi sarà la nuova reginetta, la nuova Miss Fantasia 2010. Vincenzo è finito il video, big applauso! E anche un grosso applauso per il treco, un po' di smanta! Con un grande applauso, la nuova Digno di Noia, ok? La nouvelle Miss Fantasia. Allora, siamo pronti, iniziamo. La numero uno, la numero uno, la numero uno, la numero uno. Grazie, signora. Grazie, signora. E se lo fu spassiva. Thank you. Thank you well. E' la ultima venire dell'estate del nostro, signore e signore e signore e signore. They will say! Buono! Bravo, maestro! Bravo! Mi fa la Fantasia a due mani e sette dose per Issa! Marii Loo! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti